Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Track & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piede in bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Non mi sono rimpicciolito ma semplicemente mi trovo a Travacossico, Mario dove è stata installata una panchina gigante del Big Bench Community Project di Chris Bangle. Ho messo un po' di carne sul fuoco ma andiamo con ordine e vi spiego tutto. Innanzitutto chi è Chris Bangle e cos'è il Big Bench Community Project. Chris Bangle è un designer statunitense che ha lavorato per molti anni nell'industria automobilistica. Ha cominciato alla Opel, poi è passato alla Fiat dove ha firmato ad esempio il design della Fiat Coupé e dell'Alfa Romeo 145 e poi è stato per molti anni alla BMW dove ha legato il suo nome a diversi modelli dal Coupé e il cabrio della Serie 1 a diversi modelli della Serie 7. Nel 2009 ha lasciato l'industria automobilistica per dedicarsi a progetti indipendenti. Si è trasferito a Clavesana, nelle Langhe, dove ha fondato la Chris Bangle Associates, attiva nel campo del design. Proprio a Clavesana, Chris Bangle ha installato la prima panchina gigante e ha fatto partire il Big Bench Community Project, ovvero il progetto delle panchine giganti per la collettività. Il designer spiega il significato della sua iniziativa con queste parole. Siamo così ossessionati dallo scoprire cose sempre nuove che spesso ci neghiamo l'interessante esperienza di sperimentare cose ben conosciute ma in un contesto diverso. Ecco allora che una panchina fuori scala, le cui dimensioni ci fanno sembrare bambini, ci aiuta a vedere il mondo da una prospettiva diversa e, tornando bambini, possiamo ricominciare a meravigliarci della bellezza del paesaggio. Dal 2010, l'anno della prima installazione, le panchine giganti si sono centuplicate, diffondendosi dapprima nelle Langhe, poi in Piemonte e poi anche nelle regioni circostanti. Oggi le troviamo in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Liguria. Quella di Travacò Siccomario è la numero 114 ed è la prima a portare il progetto delle panchine giganti nella Valle del Ticino. Il Big Bench Community Project è un'iniziativa no profit che intende sostenere le comunità locali promuovendone il turismo e valorizzandone l'artigianato. Chris Bangle fornisce gratuitamente i disegni e il supporto tecnico a chi vuole realizzare le panchine, che devono però rispettare queste condizioni. Devono essere poste in un punto panoramico, devono essere in un luogo accessibile al pubblico e devono rispettare lo spirito collettivo, non privato, con cui è stata realizzata la prima panchina. La panchina di Travacò Siccomario è stata realizzata da carpintieri, falegnami e verniciatori locali. È collocata su un bellissimo punto panoramico affacciato sul Ticino. In fondo si può vedere pavia con la cupola del Duomo e le torri cittadine e per raggiungerla bastano le tre parole magiche con cui comincia qualsiasi itinerario su Ticino Trek & Bike. Pronti? Cartina e via! Prendiamo come punto di riferimento il ponte coperto di Pavia, prendete la strada del Siccomario e seguitela fino al bivio lungo il gravellone. Qui svoltate a destra, prendete lo sterrato lungo l'argine e proseguite fino ai boschi dove girate a sinistra per raggiungere il Ticino. Al fiume svoltate ancora a sinistra e vedete subito la panchina. Per il ritorno possiamo proseguire oltre la panchina lungo un sentiero che ci porta al ponte sul gravellone. Se non prendiamo il ponte possiamo ricongiungerci alla strada che abbiamo fatto all'andata, mentre se attraversiamo il ponte ci ritroviamo sulle sponde del Ticino lungo il quale torniamo al ponte coperto. Dal ponte alla panchina sono più o meno 5 chilometri e mezzo, il giro completo sono 9 chilometri e mezzo. Un'altra richiesta del Big Bench Community Project è che ciascuna panchina abbia un proprio timbro personalizzato con cui gli appassionati possono farsi timbrare l'apposito passaporto speciale dedicato al progetto e collezionare le loro visite a tutte le panchine. Anche questo è un modo per promuovere il turismo locale. Per il passaporto o il timbro potete rivolgervi alla trattoria da Marzia ai boschi oppure alla girasole di Travacò sulla cartina in cui vi ho fatto vedere l'itinerario e segnata la loro posizione. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Valle del Ticino, seguiteci anche su Facebook. Un cordiale saluto a tutti da Claudio di Ticino Trek & Bike.